Le bollette della luce e del gas sono passate, nel giro di un anno, da 100.000 a 600.000 euro al mese. Costi insostenibili, in grado di uccidere qualunque attività. È così per il gruppo Caroli, a capo di una catena di strutture ricettive, che ha deciso di chiudere tutti e cinque i suoi alberghi presenti in Puglia, nel Salento. Da ieri gli Hotel Terra e Villa la Meridiana di Santa Maria di Leuca, e poi il Jolie Park Hotel, le Sirene e il Club Bellavista di Gallipoli, per un totale di circa 1.000 posti letto, non accettano più prenotazioni. Si limiteranno solo ad accogliere gli ospiti ai quali è già stata confermata la prenotazione. Poi chiuderanno i battenti. Un duro colpo per l'economia turistica della regione e dal punto di vista occupazionale, alla luce dei 275 dipendenti delle strutture per i quali è già stata chiesta la cassa integrazione. Una scelta sofferta, ma inevitabile, spiegano dal gruppo, arrivata a causa dei costi spropositati e insostenibili, che hanno completamente eroso i margini di profitto, rendendo impossibile il prosieguo dell'attività. Questo nonostante il ricorso alle opportunità offerte dal sistema creditizio e all'implementazione di impianti fotovoltaici, la cui installazione, viene sottolineato, peraltro non è ancora stata autorizzata. Uno schiaffo al turismo è un pezzo di storia del territorio salentino, considerando che il caro di Hotels ha avviato la propria attività fin dagli anni Sessanta, diventando una realtà pionieristica nel settore dell'accoglienza alberghiera. Adesso il gruppo ha deciso di gettare la spugna, ma lascia aperta, una porticina di speranza, augurandosi che un ritorno alla normalità possa presto creare le condizioni per una riapertura.